Dale presenta Compitex, ha presentato la nuova serie Spyron 7000, quel laptop grosso da 17 pollici che si converte, ma c'è anche stato spazio per aggiornare la serie 5000, quella più economica. Qua abbiamo due modelli, il 13 e il 15, si chiamano i Spyron 13 5000, i Spyron 13 15 5000. Questo è il 13 pollici, full HD, la sua caratteristica migliore è la tastiera retroilluminata, ve lo dico subito, telaio in plastica, buon touchpad in plastica, fluido però, devo dire che è molto fluido. Se lo converto a 360 gradi, in questo modo vedete quella che è la sua caratteristica principale, ovvero la possibilità di diventare un tablet, fate caso anche qua ai tasti di volume e di spegnimento che restano in zona. Avete visto una USB con un lettore SD, qua vi faccio vedere le altre due USB con l'HDMI, tutte comode, tutta a grandezza standard, questa è una buona notizia per questi portatili di fascia media. Prese d'aria perché all'interno c'è una ventilazione attiva, i processori sono Skylake i5 o i3, qua abbiamo un i5 e ho toccato il tasto di accensione con il volantino qua, adesso vediamo se si accende. Ad ogni modo ci sono 8 giga di RAM, accenditi, eccolo qua, ci sono 8 giga di RAM, processori i5 Skylake, 256 giga di SSD in questo caso, ma può essere anche configurato con memoria, con memoria con disco meccanico, 1,7 kg, batteria da 8 ore, ci sarà da tornarci, prezzo per l'Europa, scusate, prezzo per gli Stati Uniti, 529 dollari di partenza, poi bisognerà tornarci per vedere il prezzo europeo. Qua abbiamo la sua versione pompata, un 15 pollici con processore sempre i5, sempre 8 giga di RAM, qua al Pro c'è un disco meccanico da 1 tera, è un 15 pollici che in realtà mi sembrava un 17, ci sembrava un 17 quando l'abbiamo visto, perché guardate quanto spazio c'è attorno alle cerniere, guardate che cornice grande che ha, pesa 2,2 kg, ha uno schermo da 13.3 che può essere anche configurato, se non ricordo male, con configurazioni QHD, qui non c'è una tastiera retroilluminata, ma potrebbe essere soltanto un errore della configurazione che qua potrebbero arrivare a altri modelli. Lato di porte sono identiche, questa è praticamente una versione più grande dell'altro, insomma non c'è molto altro da dire, due USB HDMI, qui i prezzi salgono un pochetto, sempre relativi e lo giro, è anche difficile girarlo insomma una macchina così grande, è difficile capire a cosa può servire un portatile così grosso, la convertibilità su un portatile così grosso, il touch è molto comodo su Windows, lo sappiamo, queste macchine girano benissimo con queste configurazioni, la tastiera così è molto comoda, guardate quanto spazio c'è, qui ci spazio anche per una tazza del caffè, oltre alle nostre mani, però la convertibilità su una macchina così grande, cosa può servire? Forse guardarsi un film, forse metto le modalità a tenda e guardarsi un film, fare una cosa del genere, però insomma rende tutto un po' più pesante, un po' più goffo, quindi preferisco, ecco diciamo, facciamola breve, la versione da 13 pollici. Per maggiori informazioni su entrambi i prodotti non sono ancora stati ufficializzati in Europa, ma potrebbero arrivare insomma nelle prossime settimane, vi lascio tutti i dettagli su hdblog.it e qua sotto in descrizione c'è il link per raggiungere direttamente la playlist del Computex 2016, qua siamo ancora al terzo giorno di fiera, ci manca altra roba da farvi vedere, quindi continuate a seguirci.